Ed eccoci con il vincitore del torneo di Francavilla, Stefano Travaglia. Ciao Stefano, complimenti. Partiamo da quest'ultimo game che sembrava non voler finire mai? Sì, è un game giocato con molta tensione, con molta però anche consapevolezza che potevo portare a casa il match e quindi il torneo. Diciamo che tutto sommato l'ho gestito bene perché comunque ho portato a casa il torneo, però in qualche momento c'è stata un po' di indecisione. Probabilmente dovrò evitarle in futuro queste indecisioni per andare più su in classifica, però pensando ad oggi sono molto contento e sono ovviamente contento di aver chiuso quel game anche in un momento un po' di poca fiducia. Una considerazione perché noi abbiamo visto il tuo labiale in diretta quando hai perso il tie break, non so se ti rivolgevi al tuo staff e hai detto è una questione di testa. Che cosa c'era che non andava? Sì, ho cambiato metodo di gioco probabilmente per un po' di tensione, probabilmente poi analizzerò anche il match a freddo e ho spinto molto di meno. Quindi l'avversario è riuscito a entrare in campo e spingere di più, mi metteva in difficoltà e ero sopra di un break. Ho fatto molte cose non sbagliate, però le ho cambiate, non ho continuato a giocare come stavo giocando e dovevo un po' risettare. A fine secondo set sono andato in bagno, ho risettato, ho riordinato un po' le idee. Il terzo sono entrato carico come ero entrato il primo e anche il secondo fino a metà set. Grazie.